Ci troviamo a Villa Fastigi, uno dei quartieri più popolosi della città che in questo mese di febbraio sta convivendo con il timore dei ladri. Terzo weekend di fila, quello che ci lasciamo alle spalle, in cui i ladri hanno colpito alcune abitazioni di questo quartiere. Sei in particolare nell'ultimo weekend, tra sabato e domenica, tra quattro furti andati a segno e due mancati, dieci addirittura il weekend precedente. Una situazione davvero non più sostenibile, come ci sottolinea anche il consigliere di quartiere Luca Pandolfi. Tre weekend consecutivi, con inseguimenti poi fatti, persone che sono venute in contatto direttamente con questi ladri. Non è possibile che una situazione del genere continui, perché bisogna assolutamente trovare dei provvedimenti, come possono essere quello delle telecamere, che abbiamo sollecitato tante volte anche a livello comunale, e anche quello del vigile di quartiere, che però sia sul territorio e non che debba fare pratiche burocratiche alla circoscrizione o altre cose. Qui c'è bisogno assolutamente di un intervento, un intervento deciso e immediato per evitare che si ripetano ulteriormente queste cose. Ci sono persone che vanno a letto con la paura di trovarsi di fronte, in casa propria, delle persone che stanno rubando i loro affetti più cari. E come dicevamo, non solo domenica, ma anche la domenica precedente, diverse abitazioni, una decina addirittura sono state visitate dai ladri, tra furti andati a segno, furti mancati e furti che sono stati completati a metà. È il caso quest'ultimo dell'abitazione della signora Lorenza, alla quale è bastata allontanarsi mezz'ora da casa per ritrovarsi ignoti nella propria abitazione. È successo domenica sera, il 19, mi sono assentata a mezz'ora, io nel weekend sono stata sempre in casa, perché potevo stare a casa e volevo stare a casa. In quella mezz'ora io sono tornata alle 7.30 a casa, salgo la scala, apro il portone, ma la mia seconda porta interna era inchiavata dall'interno. Al che ho realizzato subito che dentro c'era qualcuno, anche perché schiamazzavano, si davano l'avvio per uscire. Subito sono scavalcati il terrazzo da dove erano entrati, a piedi pari non hanno badato, non avevano timore. L'istinto mi è venuto di urlare e inseguirli. E l'ultimo a pochi metri da me ha visto che io non mollavo e quindi è tornato indietro di qualche passo mostrandomi un arnese, non so che cosa, insomma minacciandomi di... mi intimoriva. Un furto mi diceva è riuscito a metà probabilmente. Sì, forse è riuscito a metà perché io mi sono assentata talmente poco e loro in questa mezz'ora, 40 minuti, hanno fatto diverse case, io sono stata l'ultima e la mia assenza è stata davvero talmente poca che magari non hanno finito il colpo. Su cosa hanno puntato? Ah, su loro e con tanti.